Karate 2000 Ferrara a salire sul palco perché si esibiranno in una loro performance, quindi potrete ammirarli qui sul palco e capire perfettamente, perché meglio delle parole c'è sicuramente l'esibizione sul palco per capire che cosa ci regala questo sport decisamente affascinante. La società sportiva di letta artistica Karate 2000 Ferrara nasce a Codigoro nel 1999, i fondatori sono il maestro Marco Battaglia, sesto d'Anna, e il maestro Antonio Polli, quinto d'Anna, che dirigono da ben 13 anni la scuola di Karate a Codigoro. Concorsi per bambini, bambine, adulti e agonisti. In questi 13 anni il livello dei praticanti è piaciuto notevolmente, forgiando oltre 20 cinture nere, da primo a terzo d'Anna, conquistando i venirevoli titoli a campionati federali, provinciali, regionali e nazionali. Nelle specialità katà, forme, individuali e a squadre, femminile e maschile. Nel kumite, il combattimento, sono stati raggiunti i migliori risultati dalla scuola con l'atleta Christian Musacchi, finalista al campionato nazionale a Lecce e componente titolare della squadra di kumite dell'Emilia-Romagna. Salve a tutti, io sono Eleonora e adesso vi presento i nostri atleti. E cominciamo subito con un katà fatto da una squadra. Questa squadra è composta da Massimo Rossi, Fabio Cobianchi, Flavio Moreschi e Anna Farinella e vi presentano il katà Meikyo, che significa nient'altro che specchio splendente. La traccia è sempre la due. Ed è molto praticato nelle competizioni sia per la complessione. La qualità delle tecniche che per gli elementi acrobatici e ve lo presentano Fabio Feggi e Christian Musacchi e il katà Ozu. La traccia è sempre la prima. La traccia è sempre la prima. La traccia è sempre la prima. Le presento sono Menegatti Marta, Nicole Rocchi, Bertoni Rachele e Bui Sara. La traccia è sempre la prima. La traccia è sempre la prima. La traccia è sempre la prima. La traccia è sempre la prima.